Benvenuti ragazzi, qua è Nicolás che mi parla e oggi sarà un nuovo video ragazzi praticamente oggi faremo, abbiamo visto su Youtube la mangio scarti challenge ed ora ragazzi la farò con mio fratello che c'è mia sorella che ci dirà non ci dirà, ci darà i... come si chiama? i cibi abbiamo 5 cibi a testa, non si può vedere e possiamo sia mangiarlo sia scartarlo allora ragazzi, io direi di iniziare e iniziamo la challenge ciao ragazzi ecco ragazzi, siamo per iniziare e iniziamo con noi Giuseppe perché si è fuori alla stella a una sinistra ragazzi, ragazzi, per coprirci dobbiamo metterci inizia, tanto sono tutti ingredienti diversi vai, sì sì, un attimo ragazzi c'era una piccola inturrezione, sì ragazzi da oggi esiste l'inturrezione i miei capelli ormai mi è caduta una bomba a tomica addosso e allora inizia Giuseppe aspetta, che numero è? 2 no, ok eh no, è di nuovo che numero è? 3 no, questo? 2 è 2 è 2 no, non ho visto iniziamo sì ragazzi, iniziamo sì ragazzi ragazzi, per questa challenge voglio arrivare ai 10 like no, 100 no, 10 like, lo so che ci arriveremo e mi fido di voi ragazzi 10 like ok? vai allora ok Giuseppe, iniziamo prima Giuseppe mangia scarti mangia che cos'è? mangia il burro la maionese è buona la maionese ragazzi no, tutta no, tutta no, tutta tutta è bella che fai adesso? tutta ragazzi, tutta? no, tutta pure io una Nicolasse e una Giuseppe Giuseppe, Nicolasse la metterò tu no, no, no sì, sì tutto eh no, no, no non è colpa non è vicino ecco, bravo ok, Nicolasse mettiti tu adesso lo facciamo a me ok facciamo una per volta ok, Nicola dimmi no, no è perché io lui non ce l'ha detto no eh, l'hai detto però quando vai ragazzi io non vedo posso vedere? no vai perché poi se stanno gli ingredienti è anche per te oh, di che ti ho paura dormi, dormi 10 like 10 like 10 like aspetta 10 like voglio li 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 voglio scarto ok, l'avete biscottato no eh, non lo so no, comunque l'ho scartato non la posso funglierla anche se è un po' tocca a me tocca a me no hello from me il biscotto ragazzi, tocca a me mi hai messo il video sì, sì, sì tocca a me ragazzi aspettate ragazzi un attimo ragazzi iniziamo vai Giuseppe tocca a te vai iniziamo vai chissà che cosa la mia sorella avrà in servo per Giuseppe è buona la maionese io non gli so gli ingredienti ragazzi sì, è mia gli esseri suoi e lui non sa gli ingredienti mangiò scarti 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 che culo no, no, no si, hai visto vabbè ragazzi no, quella poi tocca a me ragazzi, oddio, la paura dormi, no mi piace a te sì, oddio, che paura l'ansia dai, un'ansia ti stai prendendo vabbè io non ci vedo ma cosa che non ti ti interessa mangia un po' scarti mangio ok, mangio il limone no sì no, lo volevo io maio, i richiami della natura ragazzi adesso Giuseppe no, io, io vai Giuseppe corri vai sono figo vai vai, fammi il numero che nuova è? uno c'è peccato vai vai questo vede adesso sto qua solo per mangio e scarti mangio ok che cos'è? anche a lui a lui mi piace a me non tanto guarda come oddio ragazzi l'ansia lì quello è fatto oddio ti gira avanti ti gira avanti non si guardano non vedo niente non respiro aspettate ragazzi non vedo niente 10 like li voglio proprio adesso mangio scarti scarto un attimo stiamo facendo il video scarto comunque era la cipolla sì ho scartato la cipolla ma la cipolla non c'era no era solo un eh vai vai cipolla non c'era yeah evviva ho scartato la cipolla la cipolla io la odio a morte no cipolla vai l'ultimo credito a Giuseppe e l'ultimo annivo la cipolla se dove abbiamo finito ok e poi abbiamo finito la cipolla la cipolla la cipolla la cipolla la cipolla la cipolla l'ultimo annivo mangio scarti mangio il capperon che ti mangia mangia no ripetiti è congelato ragazzi non potete lo bello ragazzi ce l'ho da certi anni in bocca ma lo sto giorgendo ma è troppo schifo ragazzi il dado che mi sono mangiato prima io ma come puzza ma è cioccolata non è dado e c'è puzza di dado ma dobbiamo di cioccolata vabbè ragazzi ma per questo video è terminato se non ti sei ancora iscritto iscriviti da Nicola Sogge è tutto 10 like li voglio e ci vediamo gente